Cristiana Capotondi, presente? Presente. Filippo Nigro, presente? Assolutamente. Nicoletta Romanov, presente? Eccomi qui. Aspetta, ci sono tutti. Al gran completo ho quasi il cast del film Dalla Vita in Poi, in tutte le sale cinematografiche italiane da domani. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Buongiorno, buongiorno, grazie. Una cosa è certa, allora non ho visto anch'io il film ma andrò a vederlo perché senz'altro è bellissimo. Vi sto seguendo da sempre, ho letto la trama e una cosa l'ho già imparata, che non farò mai scrivere una lettera da un'altra persona alla persona innamorata. Questo non lo farò mai perché qualcosa ho imparato da questo film, oltre a tante altre cose, giusto? Ma diciamo che la cosa nasce invece in maniera molto pulita perché io devo scrivere delle lettere indirizzate. Tu chi sei innanzitutto? Io sono Katia. Allora Katia. La mia migliore amica è Rosalba, Nicoletta, e devo scrivere delle lettere perché Rosalba mi piace questa cortesia a Filippo Nigro che interpreta il ruolo di Danilo. Quindi la cosa nasce come un piacere fatto ad un'amica, poi ovviamente scrivendo le lettere mi innamoro delle parole, mi innamoro dell'amore. E solamente quando Nicoletta, cioè di Chiara, Rosalba decide di lasciare Danilo io mi faccio avanti, mi sembra di essere stata corretta. Sì, sei stata corretta, brava. Insomma una sireno, una cirano in gonnella con un naso un po' troppo piccolo per essere cirano. Beh, avete dovuto comunque tutti ribaltare come siete realmente nella vita, no? Perché per esempio Nicoletta tu sei molto raffinata, molto fine, invece nel film interpreti una ragazza coatta, una ragazza truccatissima, una ragazza volgare, quindi hai dovuto studiare, no? Ma tutti mi dicono questa cosa e forse io sono in realtà come Rosalba, è stata una liberazione incredibile. È una truzza nata, una truzza nel cuore. Cioè io sono realmente così, poi sono nata in questa famiglia, l'educazione eccetera, quindi ho dovuto tutta la vita fare quella che si veste per bene, l'eleganza, la cultura. In realtà no, finalmente io sono Rosalba, quindi adoro avere le sopracciglia blu. Allora non hai fatto molto fatica a calarti in questo ruolo? No, no, non è vero, ho faticato ma non dal punto di vista della volgarità, ecco perché questo sono stata aiutata da reparto trucco e costumi e quindi è più facile, chiaramente poi quando si addosso una maschera è anche più facile poi muoversi in uno spazio interiore diverso dal proprio. Ma la difficoltà è stata proprio quella di ritornare ad avere quella spontaneità che hanno i bambini. Veramente mi sono ispirata al mondo infantile e all'amicizia che lega le bambine a scuola, che quindi sono una cosa sola, hanno una confidenza immensa e hanno una visione del mondo molto naive. Questa istintività molte volte è quasi disarmante. Invece Cristiana, senz'altro tu hai fatto molto più fatica a calarti nel tuo ruolo perché interpreti il ruolo di una ragazza disabile su una sedia a rotelle. Sì, nel senso che la malattia l'abbiamo raccontata ma relativamente perché anche da un punto di vista registrico, essendo questa una commedia, si è usato anche a fare riferimento ad una storia vera, realmente accaduta, quindi di questa ragazza realmente affetta dalla distrofia muscolare, però con la voglia di raccontare una grande storia d'amore, una grande storia di amicizia. La cosa più complessa è stata riuscire a pensare che si dovesse compensare l'impossibilità dell'uso delle gambe con qualche altra arma per riuscire comunque a far sì che questo personaggio, questa persona si riuscisse a muovere nel sociale. Quindi lei è molto intelligente, molto brillante, molto ironica, sa mettere l'altro nella condizione di non poterle dire di no ed è proprio brava con le parole e quindi è anche brava nella scrittura, per cui è una straordinaria suggeritrice d'amore. Filippo Nigro invece non è molto bravo con le parole e si trova a doversi confrontare con due donne completamente diverse, anzi una non la conosce al momento. Sì, Danilo non è bravo con le parole e non parla, effettivamente non parla per i primi 20 minuti del film. Il film invece finisce con una sua lettera che scrive molto bella a Katia alla fine del film. C'è una battuta di Danilo durante la prima parte del film in cui lui dice che i sentimenti si provano, non si dicono.